In Esodo 19.5 è scritto così Ordunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, è mia. E' incredibile fratelli, è tutto suo, e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa, queste sono le parole che dirai ai figli di Israele, Esodo 28.1, al capitolo 28 dell'Esodo, è scritto così, Dio sta parlando a Mosè Poi fa accostare a te Aronne, tuo fratello e i suoi figli con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote, Aronne, Nadad, Abiù, Eleazar e Itma, figli di Aronne E farai ad Aronne, tuo fratello, delle vesti sacre per conferirgli onore e grazia Parlerai a tutte le persone abili, che ho ripieno di spirito e di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aronne per consacrarlo, perché serva a me come sacerdote E queste sono le vesti che faranno, un pettorale, un efod, un mantello, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura Faranno dunque delle vesti sacre per Aronne, tuo fratello e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote Andate in prima Pietro al capitolo 2, l'apostolo Pietro ha scritto due epistole, sono epistole lettere universali, dirette a tutti i credenti Capitolo 2, solo il versetto 9 Ma voi, Pietro sta parlando a noi, lo spirito santo lo guida a dire, ma voi, ai credenti, ai figli di Dio, ai figli di luce Siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio Affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce Gloria a Gesù Cristo, a me, accomodiamoci Le persone in generale Individuano i sacerdoti Secondo la veste che hanno, come sono vestiti E si aspettano dai sacerdoti regolarmente, parlo di molte confessioni religiose Che svolgano l'ufficio a cui sono preposti Infatti le persone vanno, almeno quelle religiose Quelle non religiose vanno al comune e si sposano al comune, quelle che non credono in nessun Dio Ma quelle religiose vanno, nelle varie confessioni religiose, dai ministri Per sposarsi, per presentare bambini, per compiere i riti di cordoglio Per chiedere consulenze, per offrire sacrifici, per portare offerte Questa era una regola antica Che è insita nell'uomo E proprio dentro l'uomo Tutti gli uomini, tutte le persone, le donne A qualunque latitudine sentono il bisogno di offrire qualche cosa A un essere sconosciuto Oppure identificato in qualcosa della natura Come il Dio Sole O come i dei dell'Olimpo, dei pianeti Che avevano i romani, i greci In questo è una prova Che ogni persona avverte dentro Un bisogno di elevare la sua anima D'accordo? C'è anche chi lo fa con la filosofia Chi lo fa con il lavoro Chi in qualche modo cerca In qualche modo verso Un qualcosa che avverte ma che non distingue E quindi svolge Senza saperlo Senza saperlo Un ufficio sacerdotale Tutti Va bene? Al di là di quelli che hanno il vestito e sono preposti Anche ai tempi Più lontani della Bibbia Mosè sposò la figlia del sacerdote di Madian Reuel E' vero Sposò una donna Intervenne per salvare queste donne Da pastori che erano arrivati Arroganti Lui difese Aveva un cuore nobile Abile nel combattere Difese E Reuel Sacerdote di Madian Gli diede in sposa Sephora Quindi Sposò la figlia di un sacerdote Che svolgeva un servizio A un Dio che non conosceva E anche Giuseppe Quando si trovò in Egitto Sposò la figlia Del sacerdote di O Quindi vuol dire che Dappertutto c'erano dei servizi religiosi Dei religiosi che occupavano E si custodivano Cercavano di curare La coscienza delle persone Curare la coscienza delle persone E' il più alto Il più difficile compito Che c'è oggi Oggi ci sono degli ottimi medici Che si chiamano psichiatri Psicologi Sono medici Che aiutano Sostengono In questa società Poi più c'è il benessere Più ci sono i malati Di questo genere Ma comunque sostengono E quindi cercano di aiutare Di indirizzare Di ascoltare E fanno bene Perché anche noi Che non abbiamo bisogno Di questi medici Utilizziamo medici E' vero Vorrei vedere A sedersi tutti Su una sedia Del dentista Senza che il dentista Faccia l'anestetico Fatti togliere un dente Senza anestesia Allora Non parliamo mai male Dei medici Che il signore ci dà E Dio Si serve di lui Tante volte per guarirci Amen Le medicine sono state fatte Per aiutarci E' vero che Dio Potrebbe guarire E liberare Amen Ma anche vero Che Dio mette Un sussidio Tante volte A tanta umanità Che ne ha bisogno Molte volte Dio ha fatto così Ora Nel servizio sacerdotale Gli ebrei Era l'unico popolo Che non adorava Un'immagine Ma adorava Dio Adorava Dio Non aveva immagini Si rivolgeva al cielo Sapeva dell'eternità Di Dio Che era l'unico Dio E che il resto Erano Dei Inventati A supporto Del bisogno umano Quando Si andò A scoprire l'America Trovarono gli indiani Che credevano In Manitou O gli aziechi Nel Dio sole Quindi l'uomo Ha bisogno Di supportare Tanto è vero Che ancora oggi Coloro che non sono Cristiani Che non amano Gesù Non hanno letto la Bibbia Supportano Le loro mancanze Idolatrando Statue Morti Le reliquie dei morti E quindi vanno Dietro Ai morti Si sentono Incoraggiati A vedere i morti E quando invece Andarono a cercare Gesù alla tomba Gli angeli Dissero Ma chi cercate Il Signore Risorto È il Dio Dei viventi Dio vivente Vivente Nessun santo Vorrebbe essere Adorato Nessuno Vorrebbe essere Dopo morto Adorato Opportunamente Non sappiamo Le tombe Di Paolo Di Pietro Di Giovanni Dei Santi Antichi Altrimenti Avrebbero fatto Mausolei Per soddisfare Soddisfare Un bisogno Di spiritualità Con falsa Spiritualità Con emozioni Fanno bene Fanno male Non lo so Quello che so È che la Bibbia Dice che Solo il Signore Dà pace E che Dio E spirito E chi l'adora L'adora in spirito E verità Ed è presente Nella vita Di tutti coloro Che piegano le ginocchia E gridano a lui In questo sacerdozio Che svolgevano gli ebrei Era perfetto Ordinato da Dio Dio si scelse una tribù La tribù di Levi Dice tu non avrai proprietà In mezzo Di terra In mezzo al tuo popolo Ma mi servirai La più grande proprietà Che tu hai È servire me Non ti devi distrarre Devi essere mia Mia Mi devi appartenere Completamente E così Questa tribù Servì il Signore E il Signore Diede a Mosè L'indicazione Di come dovevano vestirsi Un turbante Un pettorale Ma questi vestiti Erano l'emblema Oggi Li vediamo Come un emblema Una indicazione Della santità Della grandezza Della nobiltà Del nostro grande Unico vero Dio È chiaro Che Dio doveva mostrare Nel Vecchio Testamento La sua bellezza Attraverso le indicazioni Che dava il sacerdozio Levitico E quindi il pettorale I vestimenti sacri Dovete pensare Che ognuno di noi Oggi Pur non vedendo È rivestito da Dio Allo stesso modo Mediante il sangue di Gesù Ancora più forte Ancora più forte È il sacerdote Per eccellenza È colui Che si mette Fra l'uomo La persona La donna E Dio È colui che sta in mezzo È colui che prende Il posto In mezzo Il più grande sacerdote È stato Gesù Cristo Lui si è messo in mezzo Tra Dio e gli uomini Ha preso l'ira di Dio Su di sé Ha preso i tuoi peccati Su di sé Ha preso il tuo fango Fratelli Amico Fratello Prenderesti il fango Gli escrementi di un altro Addosso Puliresti Gesù l'ha preso Quello di tutti E l'ha preso Non facendo la vittima L'ha preso Per liberare te Non per dire Guardate come sto soffrendo Oh Come fanno tanti Che appena hanno un piccolo problema Oh non ce la faccio Ma che stai facendo Il Signore Gesù Ha preso tutto Per liberare I suoi figli Per liberare te Le sue creature Fatti liberare Questa mattina Da questo fango Amè Ma andresti sporco Nell'anima in giro Andresti sporco Col fango addosso Gli escrementi Tutto sporco Sono questi Sono i peccatori Quello che camminano Così nell'anima Pure ben vestiti Ma hanno l'anima sporca E Gesù lava tutto Amè Lava coloro Che piegano le ginocchia L'uomo ha bisogno Di Dio Le persone Hanno bisogno Di Dio Per trovare pace Perché fino a quando Rimarrà questo sporco Addosso L'uomo non avrà L'uomo non avrà mai Pace Potrà mettersi sotto Milioni di docce Potrà fare milioni Di gesti buoni Ma non troverà pace Perché non c'è niente Che possa lavare La coscienza umana Se non il sacrificio Di Gesù Cristo Nostro Signore Ora questo Sacerdozio Levitico Durato Migliaia Di anni Fece un errore Un grave errore In Levitico E' scritto Dio disse a Mosè Il sommo sacerdote Non si strapperà le vesti Era uso comune In un momento di cordoglio Delle persone Anche le più nobili Le più facoltose Che in un momento Di rabbia O di dolore O magari moriva un caro Si strappassero I vestiti D'adosso A volte sono scene Anche nostre napoletane E' vero Che vedete E' vero Perché noi Vivendo nel bacino Del Mediterraneo Abbiamo inglobato La cultura araba Anche E' vero Specialmente noi napoletani Noi abbiamo Sul mare Questo Scambio culturale Ora però Il sommo sacerdote Caifa Fece Un gravissimo Peccato Che quando Gesù Disse Io sono Desso Io sono Il Messia E' vero Lui si strappò Le vesti Dimenticando Che l'obbedienza Alla parola di Dio Viene prima Avrebbe potuto Anche condannare Senza strappare Le vesti Ma la vanità Di far vedere Agli altri Quanto fosse grave Quello che stava Dicendo Gesù Per concentrare Per concentrare La cattiveria Si strappò Le vesti E quel momento Significò La fine Del sacerdozio Levitico E' l'inizio Del sacerdozio Nostro Immaginate Io sono stato Tre volte In Israele E vedere Quei sacerdoti Vestiti Con le treccine Vicino al muro Fratelli Vi viene da piangere Vi viene da piangere Vedere un popolo Come dice L'apostolo Paolo Così zelante Che prega Molto più di noi Che conosce La Bibbia Da quando è piccolo Ma che non è Che è stato Tolto il sacerdozio E ti viene a dire Ma come fanno Queste persone A non capire La grandezza Di nostro Signore Gesù Cristo Perché il Signore Gesù Ha acquisito Il popolo Come tesoro Particolare Il popolo ebreo E' dal popolo ebreo Che noi veniamo Dall'apostolo Paolo Che è sbarcato Qui a Pozzuoli Che ha fatto La via Appia Che è stato a Roma Da Aquile Priscilla La nostra testimonianza E' frutto Del più grande ebreo Gesù Cristo E' di dodici Ebrei Apostoli Che hanno Ampliato Il messaggio cristiano A tutte le genti Noi dobbiamo Sempre essere grati Al popolo ebreo Ma non possiamo Fare a meno Di vedere Questo popolo A cui è stato tolto Il sacerdozio Non comprendere E questo fatto Che loro non comprendono Ci fa anche pensare Quindi non ci fa Meravigliare Che tanti Pur stando Da tanto tempo A contatto Nella chiesa Non capiscono Non capiscono Il ruolo Che hanno Tu hai capito Il ruolo Che hai Ora te lo spiego Meglio Il signore Gesù Quando è morto E' scritto anche In Apocalisse Ha costituito Un regno Di re E sacerdoti Quindi Quelli Che non sono Nati nella chiesa E quindi abituati A vedere I sacerdoti Nelle vesti Sacerdotali Devono sapere Che loro Svolgono Un servizio Sacerdotale Ma lo svolgi Anche tu Allo stesso modo Lo svolgo io E lo svolgi tu Perché se c'è Una cosa Su cui Siamo tutti uguali Oltre a essere Tutti peccatori E privi Della gloria Di Dio E che tutti Tutti i figli Di Dio Sono sacerdoti Sacerdoti E sacerdotesse Cioè Ossia Hanno il ruolo Hanno ricevuto Nel momento Che hanno piegato Le ginocchia E confessato Gesù Cristo Il ruolo Di sacerdoti Nella sua chiesa Il ruolo Di sacerdoti Per il mondo Il ruolo Di sacerdoti Per i perduti Il ruolo Di sacerdoti Per i malati Il ruolo Di sacerdoti Per chi ne ha bisogno Per chi è lontano Da Dio Sacerdote Significa colui Che si mette Davanti a Dio E prega Per coloro Che non stanno Davanti a Dio Comincia a pregare Sacerdoti Per la nazione Sacerdoti Uomini e donne E l'apostolo Pietro Quest'apostolo Scrisse Oltre ad essere Scritto Anche dall'apostolo Paolo E scritto Anche dall'apocalisse Da Giovanni Ma voi siete Una stirpe letta Tu hai L'autorità Di pregare L'autorità Di presentarti Davanti a Dio Nel nome di Gesù Davanti all'unico Vero Dio Davanti al quale Tutti tremono Davanti al quale Ogni ginocchio Si piegherà Davanti al quale Tutti saranno giudicati Tu ti presenti Già oggi Nel nome di Gesù Davanti a lui Davanti a colui Che ha disteso I cieli e la terra Che ha fatto il mondo Che ha fatto tutto E che sostiene Tutte le cose Tu ti presenti Per il sangue di Gesù Quando preghi Ricordati Non stai pregando A un'entità Sconosciuta Stai pregando All'unico Vero Dio Stai vicino Al suo trono E tocchi Per il sangue Di Gesù Cristo E stai lì A dire Signore Ti imploro Cerca di Focalizzarti Su questo Perché la tua fede Viene da questo Da chi stai Pregando La nostra fede È basata sul fatto A chi prego Perché quando sai Di pregare a Dio La tua fede cresce Ti stai rivolgendo A una persona Va bene Le persone pregano Ma rimangono infelici Rimangono col peso Quando noi preghiamo Noi rimaniamo Veniamo sollevati Perché gettiamo Il peso sull'eterno Lo vediamo È come quando Un bambino Ha un pesa Una cartella Lo vai a prendere a scuola E lo dà alla mamma O al padre Che ci va Perché pesa E il nostro Dio È più buono Dei nostri genitori E ci aiuta E lui E lui desidera Che noi portiamo A lui I nostri pesi Lui desidera Accoglierli Desidera Vederci Che ha bisogno Di noi Perché Dio È glorificato Quando noi chiediamo Aiuto E lui viene In nostro soccorso Quando dice A Faraone Io farò vedere La mia gloria A Faraone E sarò glorificato Da lui Cioè Dal fatto che andò In fondo al mare Dio fu glorificato È incredibile Allora Ma voi siete Una stirpe eletta Facciamo parte Di una Radice Di elezione Una stirpe Una Una razza Come posso dire Abbiamo Un fondamento Unico Che viene da Dio Direttamente Ha ricostruito I nostri cuori Il nostro Interiore E ci ha dato Una nobiltà Un'autenticità Che non avevamo Prima Una stirpe eletta Un real sacerdozio La parola di Dio Dice che tu sei un sacerdote Per questo Devi pregare I sacerdoti Innanzitutto Prega Per questo Hai la facoltà E devi pregare E devi pregare Secondo La parola di Dio Poi Una gente Santa Santa Significa Che il Signore Ha santificato La nostra vita Ci ha liberati Da 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 quel fango Che vi ho descritto Prima Ci ha liberati Dal fango Ci ha liberati Dallo Dalla sporcizia Dell'anima E E sta Costruendo Nella nostra vita Una nuova creatura Se dunque Uno è in Cristo Egli è una nuova creatura Questa costruzione Che è come il Lego Conoscete il Lego Tutti quanti Ai bambini Il Lego È vero? Questa costruzione Avviene qua Nella Chiesa Tramite me Suo Ministro qua Tramite gli anziani Suoi servi qua Tramite i ministri Che stanno in altre Chiese Perché Dio ha delegato Ha dato dei doni Alla sua Chiesa Per l'edificazione Della sua Chiesa Amen Quindi quando andate A trovare dei fratelli In altre Chiese Altri ministri Ringraziate Dio Perché sta costruendo La sua Chiesa Dio ha fatto così Così ha stabilito Che la salvezza E poi la costruzione Della salvezza Affinché fossimo una casa Per offrire Sacrifici Spirituali Non ammazziamo Più animali Come facevano Gli ebrei Solo nella giornata Del tempio Salomone Offrì mille animali Ma offriamo Sacrifici spirituali Lode a Dio Vogliamo servirlo Vogliamo offrirgli Delle virtù Lo lodiamo Lo benediciamo Camminiamo Con la lode Nella nostra Nella nostra Anima È vero E offriamo Sacrifici spirituali Significa Che il nostro Che non facciamo Sacrifici Esteriori Ma ci pieghiamo Internamente Per rifiutare La nostra carne E innalzare Gesù Cristo Fratelli Vi è chiaro Perché se vi è chiaro Questo Naturalmente Si Vi santificherete Migliorerete Naturalmente La vostra preghiera Diventerà Un terremoto Nella vostra casa Naturalmente Vedrete i perduti Non pregherete Per coloro Che vi rifiutano Guardate I fratelli È importante Capire questo Perché dove Dio ha giudicato Noi non possiamo Essere più bravi Samuele fu richiamato Il grande profeta Perché altrimenti Diventiamo buonisti Il Signore Non ci vuole buonisti Samuele Continuava a pregare Per Saulo Dio intervenne Samuele è stato Un grande profeta E Dio gli disse Stai ancora pregando Per Saulo Hai altri per cui pregare Ma smettila Rivolgiti ad altri Non ti fossilizzare Su coloro Che hanno già ricevuto La parola E in un modo O nell'altro Se ne sono allontanati Sarà Dio Se vuole recuperarli Vai Dai nuove persone Spera Vai a annunziare Agli altri Parla a chi non conosce Gesù Fai del bene A chi non conosce Non ti far Bloccare Da questi spiriti Che sono andati via Allora Poi Un popolo Acquistato per Dio Gesù mi ha comprato Dillo con me Gesù mi ha comprato Ha Ha pagato per me Ma sei contento Quando papà paga per te O no Quando Figli Quando papà viene Pago io l'affitto Dica Pago io il mutuo Come sei contento E Gesù ha pagato per te Per la tua salvezza A me Dite la verità Siete contenti Quando qualcuno paga per voi E dovete essere ancora più contenti Quando Gesù è andato E ha pagato per voi Ha pagato lì Quanto costa Riccardo È mio Oh Gloria a Dio Qualunque prezzo Sì me lo compro Basta Me lo prendo io Ma che meraviglia Fratelli e sorelle Ma che meraviglia E chi sta a fianco a te Ha pagato Gesù Ecco perché Vi ordino che vi amate gli uni gli altri Ha pagato Gesù Quello a fianco a te Lo stesso prezzo Forse quello che sta a fianco a te È costato un po' di più O un po' di meno Allora Voglio terminare Affinché Questo è lo scopo Ci ha chiamati affinché Come sacerdoti Proclamiamo Proclamiamo Le meraviglie Come Gesù Come Gesù ha parlato Come Gesù ha detto L'amore di Dio E poi Dove sta? Colui che va chiamato Fratelli e sorelle Dalle tenebre Alla sua ammirabile luce E preghiamo che Dio si serva di noi E preghiamo che Dio si serva di noi Dalle tenebre Non confondere Ci sono anche delle persone educate Moralmente corrette Ma stanno nelle tenebre I cristiani sono coloro Chi ha Cristo alla vita Chi ha Gesù Cristo alla vita Chi ama le cose che Dio ama Chi odia le cose che Dio odia Dio odia il peccato Questi sono i cristiani Chi ama la sua parola Chi osserva la sua parola Chi ama la chiesa Questi sono i cristiani Il resto Non sono cristiani Chi ama i servi C'è scritto Ubbidite Siete sottomessi ai vostri servitori Se qualcuno parla male del tuo servo Tu gli devi dire Esci fuori da casa mia Perché è a casa mia Voglio che si parli bene Del servitore Dell'angelo della chiesa Amen Questo significa difendere L'onore di Dio L'onore di Dio L'onore di Dio